Tutela dei lavoratori e mantenimento delle sedi di Fano della Saipem al centro di una mozione che vede come primo firmatario il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi. L'atto è stato sottoscritto anche dal presidente del gruppo PT Busilacchi e dai consiglieri Biancani, Talè e Traversini. Nei mesi scorsi con l'impegno a più livelli e la mobilitazione congiunta di istituzioni e forze sociali sembrava scongiurata la cessione del controllo aziendale da eni ed operatori stranieri che avrebbe provocato il rischio di gravi ricadute sui livelli occupazionali. Ma nei giorni scorsi, come viene fatto presente nella mozione dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato Saipem Stefano Cao, si è appresa l'esistenza di un piano di risanamento e rilancio che comporterà una trasformazione dolorosa ma assolutamente necessaria per permettere all'azienda di continuare ad essere leader sul mercato. Questo nuovo scenario dovrebbe determinare una razionalizzazione del portafoglio ordini della società, risparmi superiori a un miliardo di euro e una riduzione della forza lavoro di 8.800 persone. Già dal primo di agosto, 110 lavoratori saranno ceduti da Saipem ad un'altra società del gruppo Eni. Oggi arriva una doccia gelata, una doccia gelata molto brutta, pesante. La sede di Fano ha 1.200 dipendenti e per noi non è accettabile che possa succedere che Saipem possa privarsi di 8.800 persone. Questo vuol dire che noi dovremo mobilitare tutti i livelli istituzionali e proprio per questo ho presentato insieme ad alcuni colleghi una mozione per portare la vicenda sul tavolo del Consiglio regionale. Perché anche il Consiglio regionale si dovrà occupare di questa importante vicenda che riguarda l'economia della nostra città, riguarda l'economia di Fano, riguarda la qualità di una sede che dal punto di vista ingegneristico, dal punto di vista della progettazione è un punto di riferimento a livello mondiale e quindi non può essere persa. E quindi a livello regionale chiediamo l'impegno della giunta regionale ad aprire un tavolo con l'azienda, con Legni e con Saipem perché possa essere scongiurata la possibilità della chiusura di Fano, che il personale di Fano possa essere trasferito altrove. Tra l'altro ci sono già dei passaggi in corso che andranno in essere nei prossimi giorni e anche un coinvolgimento delle altre regioni. Non possiamo assolutamente rischiare che anche Saipem possa creare dei disagi dal punto di vista occupazionale. Ad intervenire sull'argomento è stato anche il sindaco di Fano Massimo Seri. L'amministrazione comunale, infatti, consapevole dell'importanza che la sede fanese ricopre nel territorio, ha già organizzato diversi incontri sia con i parlamentari eletti della zona, sia con i lavoratori stessi, per capire la situazione e per trovare insieme possibili soluzioni. Siamo in continuo contatto con i sindacati, ha detto il primo cittadino, e siamo supportati dall'attenzione e dalle sensibilità del nuovo consiglio regionale del presidente Luca Ceriscioli. Fano è un polo d'eccellenza, ha concluso, e rappresenta un'occupazione altamente qualificata, a cui Saipem non potrà sicuramente rinunciare.